Guardate, si è talmente medesimata nelle tragedie amorose di Beautiful che adesso Brooke si separa davvero. E non è la prima volta, la trama sarebbe troppo semplice, lei che è stata la causa scatenante di scottanti colpi di scena. Catherine Kelly Lang che cattura l'attenzione del pubblico da oltre 20 anni con la SOP più seguita degli ultimi anni. Molla anche il secondo marito, il regista italiano Alex D'Andrea con cui ha avuto il terzo figlio. Brooke era già convolata a nozze con Scott Snyder da cui ha avuto due figli. Poi proprio mentre girava Beautiful è iniziata la crisi. Nella SOP faceva il tiro e molla tra il rigge e Torn, nella vita di tutti i giorni cercava un altro compagno. Si innamora di un italiano, apre una spa di lusso a Roma ma poi Brooke trasforma la trama della fiction in realtà. Insomma, non c'è due senza tre.